Bentornati, fratelli di tuberanza, in una nuova reaction, nonché la prima a Jujutsu Kaisen Cursed Clash, il gioco che tra l'altro uscirà il 2 febbraio 2024 su tutte le piattaforme e che ovviamente potrete seguire interamente sul mio canale, con sfide online, modalità storia e... non aggiungo altro. Per adesso limitatevi a lasciare un bel pollicione all'insù e nei commenti fatemi sapere qual è il vostro personaggio di Jujutsu Kaisen preferito. Iniziamo. Vai. Peggy 12, va bene, quindi non c'è sangue. Storia originale. Però puoi giocare Jujutsu Kaisen. Ok, queste sono tre maledizioni. Combattendo in co-op a colpi di tecniche, che vuol dire? Raga, Gojo, personaggio della Madoska. Bellissimo, scusate. È miss la Disney. Ok, Gojo, ok, va bene. Per fare una breve citata, è un combattimento. Sì, Gojo, ma vorrei capirci un pochettino di più. Che vuol dire a squadre? Cioè, si potrà giocare due contro due? Sarebbe la svolta, regali. PVP con Giuseppe arriverebbero sicuro. Ok. Allora, il sistema di combattimento, ragazzi, personalmente, mi sembra identico a Mairo... Come si chiama? Mairo Wants Justice. Sto per dire One Punch. Mairo Wants Justice. E se devo essere onesto, il sistema di combattimento... Non è che mi piacesse poi così tanto, eh? Eh, sembrava molto simile. Bello, Banda. Ok. Chiaro. Chiaro. Vabbè, Gojo e Nanami sarebbero il top. L'energia malefica è essenziale in ogni scontro. Ah, ok. Quindi questa sarebbe l'interfaccia. Perfetto. Dove in basso a sinistra abbiamo la vita del nostro personaggio. Però l'indicatore dell'energia malefica è quella in alto. Credo. O no? Ah no. Bellissimo. Bellissimo. Nonché mosse risveglio potentissime. Ah, l'espansione del dominio. Ok. Ovviamente l'ho pronunciato male, però mi fa venire comunque il durello. Si può giocare anche online. Ah, ok. Quindi quelle battaglie che abbiamo visto poco fa, purtroppo, sono soltanto con la CPU. Nella modena scontrolla e affrontare le battaglie classificate in due contro due con giocatori... Ma? Nella modena scontrolla per partecipare a una serie di battaglie contro la CPU insieme al tuo partner. A quale scopo? Ah, ha un proprio sistema di miglioramento dei personaggi. Ok. E quelle che stiamo vedendo sono le varie rarità di tutti quanti gli strumenti. di giocare online con degli sconosciuti non preoccuparti. Ok, però fatemi capire questa cosa. Io posso fare le due contro due invitando un mio amico? O devo per forza giocare con gli sconosciuti? Questa è una domanda importante. Ok, le carte belle. Non mi fanno impazzire questi costumi. Ah, questa è della prima serie. Ok, quindi... E goderti storie originali inedite? Attenzione allora! Quindi possiamo ripercorrere la storia, ma c'è anche una storia inedita. Ah, ovviamente, raga, non so se ve l'ho già detto, il gioco lo tratteremo completamente sul mio canale, eh. Questo già lo sapete. Non ciò che... Eh, se me lo dice così, regà, però... Se me lo dice così, come faccio a non comprare il gioco? Come faccio? Ok, il 2 febbraio, va bene. Ora ci fanno vedere le varie edizioni. Ok, questa è la standard. Il bonus di prenotazione fa abbastanza H. E... Che cosa sarebbe questo? Jujutsu 2024? Non ne ho idea. Ah, il... Ah, ok. Jujutsu Kaisen, Cursed Clash, inventario nascosto. Morte Prematura e il DLC. Però Morte Prematura, ragazzi, a me mi ricorda tanto una... Un... Il nome di un episodio. Artbook e soundtrack originali, bellissimo. Il DLC, ok. In arrivo. Questa è la Ultimate Edition. Però non hanno... Ah, non hanno fatto una Collectors. Cioè, quindi non c'è un... Effettivamente una statuetta. Peccato. Perché secondo me una bella statuetta con Sukuna sopra il tronno, tipo così, sarebbe stato un ottimo... Un ottimo motivo di acquistare tutte le Collectors esistenti. Ragazzi miei, allora, io devo essere sincero. Questo video andrebbe rivisto più e più volte. Voi potete farlo perché basta che tornate indietro e ve lo riguardate. Io devo essere sincero, devo capire se le due contro due posso farle. Per esempio, invito Joseph, io e Joseph contro il resto del mondo. E questa è una cosa molto importante da capire. Rimane il fatto che con la seconda stagione Jujutsu Kaisen è tornato letteralmente al top. Vediamo come andrà il gioco qui su YouTube. Perché se devo essere onesto, Naruto è stata un po' una delusione. Jujutsu Kaisen, vedremo. Per oggi è veramente tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo con i prossimi video. Sempre solo qui, stuberanza. Ciao! Ciao! Ciao!